Buongiorno ragazze! Oggi per colazione ho scelto una bella tazza di latte esclusivamente HD senza lattosio con i miei cereali preferiti che sono i miel pops Non può mancare assolutamente lo spuntino di metà mattina La scoperta dell'ultimo periodo sono queste gallette alla pizza Gluten free Sono veramente molto molto buone Sembrano delle patatine come vedete qui Ma in realtà gli ingredienti non sono per niente male Ed ecco il momento del pranzo Oggi ho scelto un piatto di pasta classico col sugo Molto molto buono E ho completato il tutto con una pera tagliata a pezzettini Ed ecco il mio momento preferito La merenda Ho ricreato questa ricettina facilissima, gustosissima ma soprattutto golosissima Ho tagliato a pezzettini una banana E poi ho spolverato su del cacao amaro Non c'è bisogno di mettere zucchero Perché già la banana è molto molto dolce E devo dire che diventa molto molto golosa questa merenda Ed ecco il momento della scena Oggi ho optato per una cotoletta al forno E delle buonissime patate al forno Vi ricordo di aggiungermi su Instagram Mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto E non perdere i miei ultimi video Alla prossima, ciao! MWAH! 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 MWAH!